Uobalaba dar dabe bentornati su no mamamazzo bentornati nella rubrica fumetti nella rubrica marvel ma non nella rubrica spider man e si perché oggi voglio parlare con voi di spider woman la trovate in fumetteria con questo cartonato dal nome ritorno alle origini prima di cominciare se ancora non lo avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video o anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che non conoscono questa spider woman e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo personaggio e se la vorreste vedere più spesso in altri media ammesso che sia possibile adesso andiamo a vedere anche perché spider woman ritorno all'origine è una run di paceco perez è d'armata e fondamentalmente è la più recente che si può trovare nonostante questo hanno fatto già un cartonato io sono molto felice perché ho fatto un sacro voto di non prendere più gli spillati e la panina in questo mi sta aiutando grazie al loro costo attuale e di prendere un po' di cartonati questo perché perché da bravo vecchio quale sto diventando mi piace una storia che inizia e che finisce e in questo i cartonati mi aiutano molto di più per esempio io vorrei rileggere un sacco dei miei spider man spillati ma non ho idea quando iniziano e quando finiscono le run e quindi insomma il cartonato aiuta ecco quindi vi consiglio anche a voi se volete iniziare a leggere qualcosa ma magari non avete anche la disponibilità economica per prendere con serialità uno spillato o più spillati vi consiglio magari di prendere dei cartonati perché appunto iniziano e finiscono vi danno una bellissima infarinatura del personaggio senza che dovete per forza poi continuare a prendere gli spillati perché gli spillati non finiscono mai non c'è una fine e invece nel cartonato quantomeno c'è una conclusione questo cartonato tra l'altro c'è una premessa iniziale che spiega esattamente cosa è successo nelle storie precedenti di spider woman proprio perché sono altamente legate a questa storia che leggiamo quindi in un certo senso anche qui non c'è un vero e proprio inizio è come se fosse la seconda parte di qualcosa però fondamentalmente si può leggere tranquillamente anche in modo totalmente slegato anche perché la prima parte che è narrata nella prefazione probabilmente mi avrebbe annoiato un po' di più invece questa seconda parte mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto non tanto per la storia in sé che comunque è gradevole ma perché ho riscoperto il personaggio di Jessica Drew questo il nome della prima spider woman tenetelo a mente non è Gwen Stacy non è spider Gwen prima che gli sceneggiatori tirassero fuori da altri universi ragazze morte spider woman era Jessica Drew ma poi andiamo a vedere meglio chi è in questo in questa storia Jessica Drew la riscopro molto volentieri ha un umorismo spacca budella fa davvero schiattare da ridere è un umorismo che mi ha ricordato molto la sua controparte maschile ovvero Peter Parker Spider-Man ma mi ha ricordato anche un pochino Deadpool senza essere così esagerato ovviamente un carattere che hanno introdotto in questo personaggio che apprezzo davvero tanto anche perché questa spider woman solitamente è un membro abbastanza fondamentale degli Avengers e ovviamente quando è con gli Avengers non ha tutta questa verva simpatica è sempre molto statuaria come personaggio è molto tutta ad un pezzo specie se la mettono vicino a Spider-Man se la mettono vicino a Spider-Man è ovvio che le battute migliori che smorzano la tensione le danno a lui e lei invece fa un po' la parte di quella seria che tra l'altro è anche abbastanza infastidita dalle battute di Spider-Man qui invece la vediamo un po' spezzare la tensione sarà che la maternità gli ha giovato in questo suo umorismo e sì perché in questa storia vediamo una spider woman che è mamma e ha avuto un bambino con un ex super criminale che non so se è l'armadillo o comunque un criminale di serie B il che la rende un po' più diciamo un personaggio un po' più adulto perché normalmente quando tu una persona la fai sposare come il matrimonio di Peter Parker che poi è stato cancellato o le fai avere un bambino la rendi più adulta più matura però ci sta si chiama Spider-Woman non si chiama Spider-Girl però ecco potrebbe essere un problema magari gestire la presenza del bambino nelle storie successive qua devo dire che l'hanno gestita egregiamente ma quando questa Spider-Woman ha avuto questo bambino con questo super criminale l'ha avuto nel periodo in cui fondamentalmente aveva appeso al chiodo questo fichissimo costume eh maschietti davvero un bel costume per fare una sorta di investigatrice privata quindi aveva una giacchetta che ricordava un po' questo costume aveva degli occhiali da sole che ricordavano un po' la maschera e aveva delle avventure un po' più urban un po' più o meno livello Avengers ora per quanto mi fosse piaciuta quella run che avevo letto non so se tra l'altro era un appendice di Spider-Man o che cosa quell'outfit quel costume di Spider-Woman per me era davvero un pugno in un occhio specie perché è una delle super eroine con un costume più figo che abbiano mai fatto oltre al fatto che da maschietto lo trovo particolarmente sexy soprattutto in alcune incarnazioni sono molto felice di aver scoperto che questa run, questo cartonato è ambientato nel... è stato scritto quantomeno nel 2020-2021 e quindi successivamente a questo periodo in cui Jessica Drew aveva questo costumino anzi questa giacchetta e non aveva il costume da super eroina che a me non piaceva quindi sono felice di vedere che ha ripreso il suo vecchio costume e si vede che ha ripreso anche l'attività da super eroina dopo un periodo di fermo fondamentalmente perché molti cattivi, molti super cattivi, molti criminali non la riconoscono, non sanno chi è e gioca molto il fatto, secondo me anche dal punto di vista metanarrativo che molti lettori dell'ultima ora probabilmente non sanno chi è questo personaggio perché ultimamente sono diventati più famosi nello Spider-Verso altri personaggi arrivati molto dopo ma che hanno raggiunto una popolarità maggiore grazie ai media e grazie alle fonti di intrattenimento principali quindi il cinema, le serie televisive, i cartoni animati mi riferisco ovviamente a Spider-Gwen, a Miles Morales ma anche a Spider-Man Noir tutte le varie versioni di Spider-Man e Spider-Woman di cui lei invece non fa parte ma poi vediamo anche perché dal punto di vista auditoriale lei non è stata trattata da altri media seppur nello Spider-Verso fumettistico era presente insieme anche a Rullo dei Tamburi la seconda donna ragno che è Julia Carpenter Julia Carpenter che ha un costume molto simile al costume nero di Peter Parker anche se non ci sono simbionti di mezzo potete stare tranquilli Julia Carpenter è stata la seconda donna ragno e attualmente è la seconda Madame Web ci tengo a dirlo perché queste due donne ragno sono le mie Spider-Woman preferite che vedevo da bambino collaborare con Spider-Man adesso c'è anche una terza donna ragno che ha preso diciamo il costume di Julia Carpenter ma francamente di lei conosco poco non mi ricordo bene come si chiama si chiama Spider-Woman ovviamente ma non mi ricordo il nome del personaggio però ci tengo che voi conosciate anche queste due Spider-Woman quindi vi consiglio caldamente di acquistare questo numero in fumetteria costa 17 euro ve lo potete godere tranquillamente i disegni sono fantastici lei è fantastica ma andiamo a scoprire di preciso chi è e perché si chiama Spider-Woman e se c'entra qualcosa con il nostro amichevole uomo ragno di quartiere spoiler no, non c'entra un cazzo chi è Spider-Woman e perché si chiama così come ha ottenuto i poteri di ragno allora, a differenza dell'uomo ragno lei ha ottenuto i poteri perché suo padre che era uno scienziato ha cercato di curarla da un male da un male di cui lei soffriva geneticamente e che l'avrebbe portata ovviamente alla morte quindi ha cercato di curarla fondamentalmente con anche lì del veleno di ragno non si sa perché però vabbè è stato tirato in ballo anche qua il veleno di ragno mi ricorda molto un po' anche la versione di Amazing dell'uomo ragno in cui il morso di ragno fondamentalmente era mescolato con il sangue stesso di Richard Parker quindi con il padre del protagonista qua più o meno c'è la stessa cosa il padre di Jessica Drew è niente poco di meno che l'alto evoluzionario un altro personaggio della Marvel che non è molto non è un personaggio positivo questo scienziato appunto ha tentato di curare sua figlia in questo modo donandole dei poteri ragneschi ma quali sono i suoi poteri ragneschi anche lei non ha ragnatele organiche esattamente come il Peter Parker originale però non ha dei lanci ragnatele non se li è fatti costruire non se li è fatti regalare semplicemente non ha le ragnatele allora come può saltare da un tetto all'altro eccetera ha anche lei delle ali sotto al costume delle ali ascellare che le permettono di cadere con stile di planare con stile come Buzz Lightyear ciò nonostante riesce comunque ad aderire ai muri e ha ovviamente la forza proporzionale di un ragno quello che ha che invece non ha Peter Parker è una sorta di scarica elettrica di puntura di morso di ragno come il morso della vedova nera però naturale non dato dai suoi bracciali che emette dalle sue mani ricorda un pochino anche il tocco elettrico di Miles Morales quindi più o meno ha dei poteri simili anche a quelli di Miles e ora che ha un figlio pare che anche il suo figlio che si chiama Jerry abbia ereditato questi poteri questi quantomeno questi poteri di scarica elettrica sui nemici ovviamente non immaginatevi una scarica elettrica come quella di Electro dove vedete proprio il fulmine immaginatevi che se la mettessero in un contesto cinematografico può dare una sorta di scossa ma non mi aspetto di vedere un fulmine uscire dalle mani di Jessica Drew adesso che ha di nuovo il suo costume ma che comunque non è lo stesso costume cioè a livello narrativo gliel'hanno migliorato glielo hanno implementato queste alette che a differenza di Spider-Man non sono opzionali non sono estetiche perché se lei non ha queste non può planare chiaramente non può osare rilanciare ragnatele quindi avrà sempre queste alette nel costume si possono anche staccare e possono essere usate come armi non so se avete presente i ventagli orientali che vengono usati nelle arti marziali ecco noi abbiamo visto in questa run che può usarli anche in questo modo Jessica Drew medesima non è stato sempre un personaggio positivo perché è sempre stata una spia dell'Hydra non è mai stata non è mai stato chiaro come sia lei di carattere perché appunto l'Hydra gli aveva fatto il lavaggio del cervello e quindi lavorava un pochino come spia di recente quindi nel 2005 oddio di recente per me nel 2005 è entrata a far parte dei nuovi vendicatori e quindi io spero vivamente di vederla anche nei vendicatori cinematografici futuri però dovrebbero introdurre appunto il personaggio non so se lo faranno e da quando è entrata nei vendicatori a diciamo a livello editoriale ha preso una nuova vita è stata molto importante in alcune run anche in Secret Invasion è stata molto importante infatti quando arriverà la serie televisiva sarà un peccato che non ci sia Jessica Drew a meno che non ci sia ma dubito fortemente ma dulcis in fundo vorrei parlare con voi anche di un altro personaggio che è stato ispirato da Jessica Drew mi sto riferendo a Jessica Jones Jessica Jones è nata da Michael Bendis che è lo stesso di Ultimate Spider-Man e inizialmente la serie Alias in cui appunto si parlava di questa potenziata di questa persona con dei superpoteri con una forza sovraumana che apriva un'agenzia doveva essere proprio Jessica Jones ma dato che la Marvel rispetto alla DC Comics non ha molti Hellsword i suoi What If sono numeri autoconclusivi e quindi non volevano fare una Jessica Drew che apriva questa agenzia perché sarebbe stata fuori continuity ci sarebbero stati problemi con la continuity allora hanno creato ex novo questa supereroina che invece si chiamava Jessica Jones che ovviamente non ha poteri di ragno però ha una forza sovraumana e ricorda vagamente anche nel nome Jessica Jessica Drew hanno entrambi i capelli lunghi neri hanno entrambi una forza sovraumana ovviamente Jessica Jones non può aderire alle pareti però ecco ricorda vagamente sia la donna ragno come poteri sia Carol Danvers che è appunto Captain Marvel tra l'altro Captain Marvel e Spider-Woman sono anche molto amiche e infatti quando Jessica Drew appunto ha smesso di fare la supereroina e ha indossato questa giacchettina per fare una sorta di investigatrice privata mi ha ricordato molto una sorta di rimando a quello che volevano fare con lei quello che poi hanno fatto con il personaggio di Jessica Jones e infatti mi sembrava un po' un doppione anche se adesso Jessica Jones in realtà fa altro però mi sembrava un po' un doppione sono contento di vederla di nuovo nel costume di supereroina Jessica Jones è stata introdotta a livello di retcon anche in The Amazing Fantasy 1 come compagna di classe di Peter Parker non si sa perché hanno voluto introdurre in questo modo forse per farla accettare un pochino di più ai fan fondamentalmente lei era una di quelle avete presente quelle compagne di classe con cui comunque c'è ma non è che si parla non fa parte della tua cerchia ecco lei era una compagna di classe di Peter Parker senza sapere che Peter Parker fosse Spider-Man però questo ci fa capire che ha la stessa età di Peter Parker nei fumetti quindi questo cosa vi voglio dire che a differenza della serie tv del Marvel Cinematic Universe dove Jessica Jones è un'adulta e Peter Parker è ancora un ragazzino che sta andando adesso al college praticamente sta iniziando adesso l'università c'è un'alta differenza di età invece nei fumetti sono coetanei questo così per darvi questa informazione per quanto riguarda invece il punto di vista editoriale io non ho la minima idea o meglio ho una vaga idea su chi possa detenere i diritti di sfruttamento dell'immagine di Spider-Woman di questa Spider-Woman di Jessica Drew e credo sia questo il motivo per cui non l'abbiamo ancora vista in nessuna incarnazione principale ovvero film piuttosto che che serie televisive eccetera eccetera o Marvel Cinematic Universe questo perché il nome Spider-Woman molto probabilmente è sotto il copyright della Sony tuttora esattamente come Spider-Man eccetera eccetera però il personaggio di Jessica Drew potrebbe essere sotto i diritti invece del Marvel Cinematic Universe questo perché Jessica Drew è legata agli Avengers perché è legata all'Hydra è legata all'I.M. scusate all'alto evoluzionario c'entra vagamente con con Sinistro non è Sinistro che è della DC Comics con Sinistro che è legato agli X-Men però adesso la Disney possiede la Fox quindi comunque sarebbe un problema in meno ma c'è ancora il problema con la Sony insomma di conseguenza per questo motivo io dico che non vedremo tanto presto un'incarnazione cinematografica di Jessica Drew a meno che appunto non facciano un patto ancora con la Sony come lo hanno fatto con con Peter Parker anche se in misura molto minore perché la Sony dovrebbe detenere solo il nome Spider-Woman che potrebbero utilizzare banalmente con Spider-Gwen che poi a livello narrativo si chiama Ghost Spider non so se perché è vestita di bianco è un cappuccio o perché è morta nel nostro universo spero non la seconda ipotesi ovviamente la stessa cosa vale anche per Julia Carpenter e Matty Franklin questo è il nome della terza Spider-Woman quindi purtroppo tutte queste incarnazioni spettacolari che sarebbe bello vedere interagire con Peter Parker non so se le vedremo proprio perché magari la Marvel il Marvel Studios non vuole investire in personaggi così poco conosciuti e spendere dei soldi verso la Sony probabilmente è un vero peccato un vero 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 peccato bene io vi ringrazio per avervi seguito come sempre fino in fondo a questo video come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video a questo video